Un luogo nuovo è completamente restilizzato per una gamma di prodotti ampia, capace di spaziare dal van compatto al motorhome, senza dimenticare profilati, profilati con basculante e mansardati. Una nuova scocca che evolve un concetto già avanzato, una nuova gamma completamente rivista negli interni dei contenuti e tanti dettagli che hanno visto una maggiore cura costruttiva. È la ricetta CI per il 2015. La gamma Sinfonia si conferma al vertice dell'offerta CI per ciò che concerne mansardati profilati e profilati con basculante. Le versioni 2015 si caratterizzano per l'adozione della nuova scocca EXPS EVO con sottopavimento rivestito in vetro resina e coibentazione in styrofoam, pareti di nuova generazione con rivestimento esterno in vetro resina, interno in laminato plastico, coibentazione in styrofoam e in telaiatura interna in un estruso plastico, quindi esenti da legno e tetto di nuova concezione rivestito esternamente in vetro resina e coibentato in styrofoam. A livello estetico i veicoli della gamma 2015 si caratterizzano per una nuova parete posteriore in cui spiccano i nuovi gruppi ottici a colonna e naturalmente l'inedito logo CI, profondamente rivisto, personale ed elegante allo stesso tempo. Un'importante miglioria riguarda la parte posteriore, è stata infatti alleggerita la parte della coda per consentire un migliore angolo di uscita ai veicoli, una cosa utile specialmente per quelli con sbalzo posteriore piuttosto pronunciato. Introdotta lo scorso anno come gradino di accesso al mondo CI, la gamma Magis è sostanzialmente confermata, vede l'introduzione di una nuova porta della cellula, completa di finestra fissa, nuovo paraurti posteriore con gruppi ottici a colonna e di diverse migliorie interne, a partire dalla nuova scocca EXPS EVO al nuovo rivestimento del pavimento e una crescente cura dei dettagli interni. Lanciata nel lontano 1992, la gamma Riviera rappresenta ormai da anni il cuore dell'offerta CI per ciò che concerne mansardati, profilati e profilati con basculante. La gamma 2015 vede un completo rinnovamento dei modelli, del loro stile, dei loro contenuti e la comparsa di nuovi modelli. Questo, alle mie spalle, è il nuovo Riviera 85, generoso mansardato da 7,40 m caratterizzato dalla sempre più richiesta pianta con letti gemelli posteriori su garage. All'esterno, i nuovi Riviera non tradiscono il family feeling con la gamma più alta Sinfonia. La differenza fondamentale è posta nelle finestre con la nuova gamma che adotta le automobilistiche Dometic S4 Deluxe. Un look interno completamente rinnovato nelle tinte, nella forma del mobilio e nella cura dei dettagli. E' questo lo stile che i nuovi Riviera hanno scelto di introdurre in seno alla gamma CI. Sono tanti i dettagli significativi che identificano i nuovi interni della gamma Riviera. A partire dall'ingresso con specchio retroilluminato contornato da pannelli imbottiti personalizzati dal marchio CI, nuova e curata illuminazione a LED e nuova testiera posteriore con testate imbottite, specchio centrale e retroilluminazione a LED. New Entry 2015, il nuovo Riviera 99 XT ha una lunghezza superiore ai 7,4 metri e presenta una pianta interna particolarmente spaziosa. E' il caso della zona posteriore dove, oltre a un doppio armadio guardaroba particolarmente utile nei viaggi a lungo raggio, si trovano l'ampio letto matrimoniale dotato di sistema Flex Space di regolazione dell'altezza e raggiungibile in modo molto facile anche quando completamente alzato grazie a una intelligente scaletta laterale facile da piegare e la zona toilette sdoppiata tra un locale bagno e la classica doccia indipendente. Altri due posti letto sono poi disponibili nella parte anteriore grazie al letto basculante Innovazione 2015, la movimentazione elettrica. Il nome Mizzar negli ultimi due anni è diventato sinonimo di integrali. La gamma 2015 si riconferma al vertice della produzione Caravans International introducendo due nuove piante, Mizzar 66 e Mizzar 88. All'esterno i modelli della nuova collezione si caratterizzano per l'adozione di nuovi specchi retrovisori a forma discendente, per una grafica esterna completamente riveduta, per l'adozione di nuovi passaruota e per le nuove finestre Sites Dometic S4 Deluxe con lastra esterna brunita per un look più automotive. La nuova Mizzar 66 si caratterizza per un nuovo rivestimento del pavimento più scuro, tinte del mobilio più chiare rispetto all'anno scorso e per una pianta che ripropone uno dei grandi classici in versione rivisitata. La camera da letto posteriore con letto matrimoniale centrale nautico vede infatti la presenza di una toilette passante con gruppo lavabo in posizione centrale, doccia da un lato, vc sul lato opposto, porta scorrevole avanzata, servizi centrali e il classico living anteriore. A fianco al nuovo Mizzar 66 l'omonima gamma si arricchisce della presenza del nuovo Mizzar 88, variante più compatta dell'apprezzato 85, di cui ripropone i letti gemelli posteriore su garage in un abitacolo con lunghezza contenuta entro 7 metri. Grande importanza nella gamma CI 2015 è data alla serie di camper puri Kiros, che è oggetta di un totale rinnovamento. Due serie, Kiros Prestige e Kiros Experience, dedicate la prima a coloro che ricercano il massimo della cura dei dettagli e della piacevolezza delle ambientazioni, mentre la versione Experience si rivolge a tutti coloro che desiderano iniziare il percorso di turisti all'aria aperta con un veicolo dal conveniente rapporto tra qualità-prezzo ma fronte di dotazioni complete.